Ciao musicista! Ti piacerebbe produrre, registrare, mixare ad altissimi livelli qualitativi la tua musica o quella della tua band? Ti piacerebbe farlo senza sborsare cifre e cifroni inimmaginabili, migliaia e migliaia o decine di migliaia di euro in attrezzature o in costosissime produzioni discografiche? Forse anche tu in questo momento storico che in realtà sta durando da un po' di tempo hai capito che il mondo delle case discografiche alla ricerca di giovani e talentuosi emergenti è ormai in realtà solo un ricordo del passato, giusto? Io mi chiamo Francesco Nano, sono il direttore di ScuolaSuono.it e sono il direttore del primo ed unico corso online per tecnici del suono professionisti che spiega passo passo il sistema semplice ed efficace che ho individuato per diventare un vero fonico professionista anche senza un reale studio di registrazione a portata di mano. Fino ad oggi ho avuto l'onore e il piacere di poter aiutare più di 390 tra ragazzi e ragazze a diventare i produttori artistici ed esecutivi delle proprie canzoni, i tecnici del suono, i sound engineer della propria musica. Data la preziosa esperienza che ho potuto accumulare negli ultimi anni, in qualità di docente insomma si potrebbe dire, mi sono reso conto anche grazie al feedback dei miei allievi che qualsiasi musicista che si avvicini al mondo della registrazione e del mixaggio da autodidatta nel 99% dei casi commette 5 classici errori. Chiunque abbia un minimo di preparazione tecnica, preparazione anche di base insomma, non si sognerebbe mai di fare questi 5 errori, però gli autodidatti chissà come mai tutti quanti cadono sugli stessi punti e facendo così hanno dei grossi svantaggi. Anche attraverso i miei errori di gioventù mi sono dovuto rendere conto che questi 5 tipici classici sbagli ogni giorno mi spingevano e come spingevano a me spingono a tutt'oggi migliaia e migliaia di musicisti, tra i quali potresti esserci anche tu, a spendere molto più del necessario nell'acquisto di attrezzature audio, ad attraversare interminabili momenti di frustrazione a causa degli scarsi risultati sonori, perché ti assicuro che quando dopo 3 giorni che stai mixando lo stesso brano fai un confronto tra il risultato che hai ottenuto e quello di il suono di un disco di cui sei innamorato e ti viene da piangere, non è una bella sensazione, si parla proprio di frustrazione vera e propria. In definitiva mi sono ritrovato a un certo punto della mia vita e so per certo, come me, anche molti altri musicisti, mi sono trovato impotente ad assistere a quello che pensavo essere l'implacabile sgretolamento del mio sogno musicale. In realtà si stava sgretolando per futili motivi, non c'erano delle ragioni proprio che impedivano seriamente la possibilità mia e della mia band di progredire nel mercato discografico, nel sogno musicale. Erano quegli stupidi trucchetti che io non conoscevo che mi avevano portato a quasi l'esasperazione. Dal momento però che le 5 soluzioni, e questa è la buona notizia, a questi problemi sono semplici da capire e lasciatelo dire anche di immediata applicazione, ho pensato che ti sarebbe stato molto utile potervi accedere per risparmiare tempo, soldi e soprattutto salute mentale. Ho infatti deciso di regalarti l'accesso a un breve ma efficace workshop progettato proprio a questo scopo. Si tratta di uno speciale evento a cui solo in pochi musicisti potranno partecipare. Ti anticipo che se pensi già di conoscere tutte le soluzioni ai problemi audio o semplicemente, se ritieni anche semplicemente di essere sufficientemente esperto per non aver bisogno di assistere a questo evento, stai tranquillo, non penso ti potresti perdere assolutamente niente di particolare. Tuttavia invece, se sei un musicista che davvero ama la musica, come io penso che sia così, e se preferisci approcciarti al mondo dell'audio imparando dagli errori altrui, come ad esempio dagli errori miei e anche di tutti quelli che li hanno commessi prima di te, questo seminario fa proprio al caso tuo. Te lo dice un batterista che dopo essersi reso conto che il mercato discografico non offriva più le concrete possibilità di un tempo, ha deciso di intraprendere la carriera per fonico per essere in grado di produrre autonomamente la propria musica, la musica della sua band, dei suoi musicisti, però in maniera professionale, senza essere l'improvvisato di turno che anziché registrare un disco registra robaccia. Negli anni in cui, macinando decine di migliaia di chilometri da pendolare, e questa è storia della mia prima esistenza, in questi anni in cui procedevo nella mia formazione di fonico professionista tra Trieste, Bologna e Cuneo, mi sono reso conto che per realizzare audio di qualità non è strettamente necessario farlo in un vero e proprio studio di registrazione. In quegli stessi anni ho infatti realizzato il mio primo album professionale, ho dimostrato così a me stesso e ai membri della mia band quanto in realtà produrre audio di qualità, audio professionale paragonabile all'audio che viene prodotto a livelli high budget, come si dice, quindi le produzioni che poi escono in radio e in televisione non sia poi così impossibile, anzi sia qualcosa alla portata di mano anche senza dover investire decine di migliaia di euro in apparecchiature oppure in studi di registrazione particolarmente tecnologici elaborati o ancora in particolari consulenze discografiche che insomma lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Di lì a quel che anno, con queste consapevolezze, con queste esperienze che avevo fatto, ho deciso di aprire il primo ed unico corso per tecnico del suono online, di cui mi freggio e mi vanto ancora oggi, su scuolasuono.it, il mio sito. Questo corso aveva come obiettivo il fatto di condividere con i musicisti, che erano in realtà miei colleghi musicisti, come potresti tranquillamente essere tu, ciò che avevo appreso dalle scuole teoriche e quello che ero riuscito a sintetizzare nella pratica sul campo del recording, insomma. Se desideri farti anche un'idea, puoi tranquillamente girare su Google e troverai un po' di risultati, penso, molto interessanti. Ti fai un'idea sui miei metodi, sulle potenzialità, insomma, che offrono anche i miei corsi. Se non hai molto tempo da investire in queste ricerche, ho messo a tua disposizione qua sotto dei feedback che hanno lasciato i miei allievi al telefono. Ovviamente questi commenti sono frutto di una salata compravendita. Li ho pagati molto per dire queste cose, no, sto scherzando. In realtà, anzi, sono tutto il contrario. Sono delle intercettazioni telefoniche. Praticamente ho telefonato ai miei allievi e ho detto, senti, tu che cosa ne pensi del mio corso? Ti piace, non ti piace? Dammi un'opinione. Mentre stavo parlando, mentre mi rispondevano, io registravo. Alla fine della conversazione, loro, senza sapere di essere registrati, dicevano tutto quello che volevano dirmi. Ovviamente poi sentirai, mi insultano, eccetera, eccetera. Alla fine dicevo loro, guarda che ti ho fatto uno scherzetto, ti stavo registrando. Posso usare questo commento? E molti mi hanno detto, sì, sì, scherzi, mi farebbe molto piacere. E così, eccoli qua. Di recente però, tornando a noi, mi sono reso conto che all'interno della mia scuola per tecnico del suono c'era un grande difetto. Veniva commesso il medesimo errore da parte mia rispetto a quello che viene fatto in tutte le altre scuole professionali per tecnico del suono, in alcune delle quali ho avuto io modo e piacere di partecipare in qualità di allievo. E cioè il fatto che le soluzioni ai cinque problemi che affliggono chiunque si avvicini all'audio professionale per la prima volta non venivano rese esplicite all'inizio del corso, ma rimanevano incastonate all'interno di concetti molto elaborati e di lezioni anche molto lunghe, insomma. In definitiva, per evitare quei cinque banalissimi errori, i miei allievi dovevano necessariamente completare l'intero ciclo, l'intero percorso di studi e quindi dovevano finire tutte le lezioni, insomma. Sulla scorta di queste considerazioni mi sono, diciamo, fatto alcuni pensieri. Mi sono recato da Biasin Musicali, un negozio di strumenti musicali di Azzano Decimo, e abbiamo fatto, diciamo, un progetto, abbiamo portato avanti un progetto. Ed infatti, assieme a Biasin e assieme ai loro partner formativi, ossia l'associazione NAM Lab Laboratori Musicali, abbiamo deciso di organizzare e realizzare assieme un workshop a numero chiuso per aiutare i musicisti più volonterosi, diciamo così, ad avvicinarsi al mondo dell'audio in maniera sicura ed intelligente, senza essere gli improvvisati di turno che vanno a spendere, espandere, senza capire bene quali siano gli investimenti da fare, dove si può rimandare, dove si può evitare, eccetera, eccetera. Se davvero vuoi realizzare la tua musica ad altissimi livelli qualitativi, senza per forza sentirti costretto a dover investire migliaia o decine di migliaia di euro in allettanti produzioni discografiche dagli scarsi risvolti pratici, come spesso accade, allora vorrai partecipare a questo corso, a questo seminario, per ascoltare con molta attenzione ciò che il sottoscritto ha da dirti. Ti metto in guardia su una cosa, però. Non è mia intenzione farti credere che registrare un disco sia una passeggiata. Ci vogliono discrete competenze tecniche, sia teoriche che pratiche. È comunque necessario, perché è necessario acquistare dell'attrezzatura audio di qualità, però l'importante è sapere quale e sapere dove non sperperare, sapere come investire i propri soldini. E soprattutto ci vuole molta passione per ottenere risultati professionali in breve tempo. Se però, anziché disperdere le tue energie in sterili e esperimenti da fonico improvvisato, come il sottoscritto ha fatto agli esordi della sua, chiamiamola carriera, di tecnico del suono, se sei disposto a seguirmi in questo seminario, ti assicuro, lo metto per iscritto qua, mi sto videoregistrando, che riuscirai a risparmiare valanghe di tempo, moltissimo denaro e anche moltissima salute mentale. Il tutto a beneficio della tua creatività musicale e della tua carriera artistica, perché se pensi che nel momento in cui tu passi tre giorni da dodici ore l'uno a mixare un tuo brano e dopo riascolti questo brano, lo confronti con un brano a te caro, e la cosa che ti viene in mente, il desiderio che ti verrebbe in mente in quel momento è quello di darti fuoco, ti assicuro che la tua creatività in quel momento subisce un piccolo rallentamento, sicuramente. Quando c'è creatività, quando c'è movimento, quando c'è musica e quando si riesce a produrre musica in maniera veloce e rapida, allora creatività e secondo me anche carriera musicale subiscono un'accelerata. Viceversa quando si rimane chiusi, incastonati in lavori interminabili, lunghissimi, soprattutto quando si ha le prime armi, perché quando si è professionisti ci si può anche permettere il lusso di dire boh, io questo è il disco della mia vita, voglio metterci cinque anni a finirlo, e ci sono dei gruppi, dei personaggi che fanno anche così, ma quando sei all'inizio, agli esordi, hai bisogno di fare molta esperienza, non puoi dire questo sarà il disco come ho fatto io, questo sarà il disco migliore della mia vita, il primo e il migliore. Peccavo un po' di superbia in realtà all'inizio, però devi fare molta esperienza, facendo molta esperienza, se la fai nella maniera giusta, ecco che vedrai risorgere la tua arte, vedrai risorgere il mondo musicale che ti circonda, i musicisti, le collaborazioni, i risultati, la tua carriera prenderà davvero un via. Questa è la mia personalissima opinione sperimentata sul campo, questa è la mia storia in realtà. Veniamo alle cose un pochino più concrete. Ti interessa sapere il titolo di questo workshop, di questo storico seminario o evento gratuito? Prepariamoci perché l'ho cognato io da qualche minuto. Si chiama Recording Magic Workshop. Tutto quello che le scuole per tecnico del suono non ti diranno mai. I musicisti presenti alle riunioni per l'organizzazione della logistica, ti racconto un aneddoto. Quando hanno letto la scaletta, a parte che mi hanno riso quando le ho raccontato il titolo, però quando hanno letto la scaletta mi hanno addirittura un po' spiazzato per le loro reazioni perché qualcuno ha detto a un workshop galattico, un altro ha detto a un evento imperdibile, devo farlo conoscere a tutti, un altro a un seminario rivoluzionario, erano in tre, insomma. Comunque hanno apprezzato diciamo in maniera molto calorosa la scaletta e l'idea di questo workshop. In realtà non riuscivo bene a capire perché a me parevano cose scontate, nel senso ho fatto uno più uno, ho la mia esperienza, quello che ho studiato e ho messo a frutto a livello teorico, ho creato la scuola per tecnico del suono, manca un piccolo anello perché manca il discorso di esplicitare queste cinque facili soluzioni, facciamo un workshop, uniamo le forze e organizziamo un workshop. Io me lo immaginavo molto scontato, allora invece hanno accolto molto positivamente questa mia proposta. tuttavia però ti dico la verità che adesso ho un po' a mente fresca, forse mi tocca anche un po' ammettere che per la pregnanza, la ricchezza e l'importanza dei contenuti che vengono trattati in questo evento, questo workshop dovrebbe risultare accessibile solamente a pagamento. ed infatti in realtà ci sto un po' pensando però per adesso insomma ti assicuro, ti tranquillizzo, insomma rimane gratuito, però quello che mi ha fatto pensare è il fatto che in questo seminario non ti verranno snocciolati i soliti trucchi, trucchetti inapplicabili nella tua situazione musicale, ma ti verrà spiegato come produrre audio professionale preservando la tua creatività ed il tuo portafogli e già questo secondo me varrebbe diverse centinaia se non migliaia di euro. Scoprirai il mio personalissimo sistema per risparmiare a colpo sicuro sull'acquisto di attrezzatura audio professionale e riceverai in esclusiva i cinque segreti di cui abbiamo parlato sopra che ti eviteranno sicuramente anni di frustranti seccature. Secondo me non partecipando a questo workshop molto probabilmente, le strade sono infinite, però ti dico la sincera verità, è probabile che tu vada incontro a continue perdite di tempo, di creatività musicale e anche di soldini. Soprattutto nel momento in cui vai a confrontare quello che è il risultato della tua produzione musicale rispetto alle sonorità high budget delle produzioni discografiche ad alto livello. Queste in realtà sono considerazioni che faccio sulla scorta di esperienze personali, quindi opinabile ma è la mia esperienza insomma. Come già sai abbiamo già anticipato la partecipazione al seminario dal vivo o in diretta streaming per coloro che hanno la possibilità di partecipare live è gratuita, così come l'accesso alla registrazione video che rimarrà disponibile a queste condizioni, cioè in maniera free, diciamo così, solamente per un certo periodo di tempo. Vedremo poi adesso come procedere, come ci organizziamo. Dunque per partecipare al seminario, come si fa? La cosa che devi fare è iscriverti attraverso il modulo che trovi in questa pagina, inserendo il tuo nome, non è necessario inserire il cognome, e il tuo indirizzo email. Infine segui le poche e semplici istruzioni che ti verranno date e avrai accesso immediato alle aree riservate ai partecipanti. Io sono personalmente certo che ringrazierai te stesso per aver saputo cogliere questa occasione e ringrazierai anche me in qualche modo per aver condiviso con te queste informazioni. Ti prometto, lo sto videoregistrando, lo sto mettendo praticamente per iscritto, ci metto la faccia, ti prometto che scoprirai tutto ciò che ti è davvero necessario sapere per incominciare ad orientarti nella selva intricata del mondo dell'audio digitale professionale. Inserisci ora il tuo nome ed il tuo indirizzo email nel modulo che trovi in questa pagina.